Allora, praticamente... Che c'è fuori? Stavo mai detto a colina che faceva 40 anni di matrimonio mi dicevo colina non mi è stato tutto bene non mi ha fatto tutto bene le fette nostre non mi ha fatto l'indoltre non mi lascio, non è che faccia tu sei che hai quel problema che ogni volta che facciamo l'amore lei ha fissato dei frutti ogni volta che facciamo l'amore io non mi lascio i frutti mi dicevo, ma tu non mi hai mai accaduto, non mi ha fatto 40 anni di matrimonio l'ultimo anno che faccio e vanno in due o tre gli altri stavano tutti chiedendo, stavano scompartiti perché stavano un vecchio arido un anziano proprio stavo a dormire stavo facendo scendere e poi non mi ha fatto il marito e manco lì, cominciano a fare e da ma banne e da ma mulet e da pucchi e da ma... e da pucchi 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 e poi搞i e unacceptable un dol canale che servis così non hai un poc di frutti semno e se sei un servis ha 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 ha